ho studiato Mozart, ho studiato Beethoven, Chopin, ma non per rimanere schiacciato dalla loro magnificenza ma per avere l'ardire irriverente di fare come il loro perché voglio scriverla quindi lo studio non è semplicemente un immergersi in quello che hanno fatto i grandi per ribadire quanto sono stati grandi ma per trarre da loro l'esempio e fare come loro e meglio di loro